In queste ore continua l'intensa attività vulcanica dell'Etna, come confermata dagli uomini dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'attività eruttiva è caratterizzata da continue esplosioni stromboliane e piccole fontane di lava, che hanno formato una collata in discesa sulla parete occidentale della Valle del Bove, un'area fortunatamente lontana dai centri abitati e dalle località turistiche. L'intensa attività eruttiva ha creato notevoli disagi ai passeggeri e all'aeroporto di Fontana Rossa. Infatti alcuni voli nei giorni scorsi sono stati dirottati verso Palermo, Comiso e Malta, alcuni sono stati anche cancellati. Intanto l'unità di crisi di Catania ha confermato la chiusura per precauzione dagli spazi aerei numeri 1 e 2 interdetti già da ieri. Lo scalo resta aperto e operativo, ma ritmi molto lenti. Bisognerà attendere le prossime ore per avere un quadro più chiaro.